Io mi occupo del Dipartimento delle Assicurazioni in Unpli Nazionale e da alcuni anni abbiamo inserito obbligatorio con l'affiliazione la responsabilità civile verso terzi per tutte le proloco. Per il futuro stiamo cercando di prevedere già dal prossimo anno l'inserimento della polizza tutela legale per garantire a tutti i presidenti proloco, a tutti i consigli direttivi maggiore sicurezza nell'organizzazione degli eventi in eventuali problematiche che si possono verificare. Inoltre con l'entrata in vigore del DL 117 del 2017 sia nell'articolo 17 che 18 si parla di soci e volontari quindi avremo una distinzione tra le persone che saranno iscritte la loro opera all'interno delle proloco. Queste persone, i volontari, devono essere inserite in un apposito registro e devono essere assicurate da infortunio e malattie nello svolgimento delle attività a favore delle proloco. Quindi noi come Unpli stiamo già organizzando una polizza ad hoc per coprire i nostri volontari sia da malattie che da infortuni nello svolgimento delle attività delle proloco. Quindi per garantire a tutte le proloco d'Italia di lavorare in sicurezza e in tranquillità nella promozione sia dei nostri territori che delle nostre eccellenze.